Siete Manuela Verni e Lady Meri? A un senso di lettura dell'articolo 29 della Costituzione La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza volare e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare Signora Manuela Verni vuole unirsi in matrimonio con la più presente Lady Meri? Sì, lo voglio Signora Lady Meri vuole unirsi in matrimonio con la più presente Signora Manuela Verni? Sì, lo voglio In seguito alla distrazione spermativa io, Diego Sarno, sulla base degli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana Vi dichiaro unirsi in matrimonio Lo scambio delle fede Lo scambio delle fede Lo scambio delle fede